questo film piace fa ridere anche i francesi insomma è una giusta mediazione tra tra il cinema italiano e il cinema francese anche perché alla fine ex è un film molto poco italiano nel senso la città in cui è ambientato che è roma non si vede mai praticamente piuttosto che i regionalismi dialettali che fanno parte proprio del dna del cinema comico italiano sono quasi assenti quindi è un film che loro riescono a recepire molto ci sono trattative per vendere un'altra ventina di paesi quindi e soprattutto sarei proprio curioso di vedere finalmente una commedia italiana andare all'estero ex è una commedia romantica proprio nel vero senso cioè provocatoriamente intitolata ex volevo raccontare il ciclo dell'amore cioè partivo proprio da coppie che si dichiara un amore eterno e poi chiudo il film è solo rovino per chi non l'ha visto insomma con con altrettanti baci di coppie in parte ricomposte in parte no proprio perché volevo raccontare la difficoltà oggi di avere un amore per tutta la vita e quindi raccontare il ciclo di un amore che finisce in due tre anni lo bruci velocissimamente adesso e che dopo due tre anni a volte ci sono delle coppie che riescono a fare il tagliando come come le macchine e rinnovano insomma l'amore vanno avanti ma più spesso si arrendono alla prima vera difficoltà e provano una macchina nuova vediamo questa andrà meglio tanto dopo due tre anni c'è da fare il tagliando anche a quella questo volevo raccontare cioè un avevo in mente questo tema che proprio abbiamo citati prima insomma i grandi sceneggiatori della commedia all'italiana non avrebbero potuto fare semplicemente perché non esisteva cioè questo concetto i miei genitori sono stati insieme tutta la vita stanno tuttora insieme e adesso invece io sono circondato da una massa di amici con famiglie allargate dir poco cioè famiglie condivise proprio cioè secondo me è proprio un fatto di poca voglia nel senso l'amore lo dico proprio nel film è una cosa sulla quale bisogna lavorarci c'è un impegno è come andare in ufficio molto più bello di andare in ufficio però è un impegno e appena lo tenti di mandarlo per i fatti suoi cioè tanto questo rapporto va avanti da sé quel rapporto lo perdi immediatamente a volte con rimpianto c'è una delle storie del film con claudio bisio che a me piace molto perché proprio è la storia d'amore impossibile insomma è un uomo che si rinnamora di sua moglie che è morta quella secondo me la storia simbolo un pochino del del film insomma del dell'amore perduto insomma perché poi il tema comunque l'amore perduto e ritrovato guarda è stato facilissimo scrivere ex perché a qualunque cena andavo e dicevo ai miei amici sto scrivendo un film sugli ex c'erano immediatamente quattro che mi dicevano ah te ne racconto una pazzesca dunque il mio ex è riuscito a farmi no in realtà era è così davvero nel senso bastavano già l'auto analisi che ci siamo fatti io e i miei due coscieneggiatori martani e bruno sulle nostre ex e già avevamo materiale su cui lavorare è un materiale molto fertile e tant'è che noi ci siamo domandati più volte è possibile che nessuno abbia fatto questo film cioè con questo concept cioè il bim ci sembrava talmente l'acqua calda proprio che dicevamo nessuno ha fatto il bignami degli ex c'è un film dove si parla solo di questo tema tutti i film d'amore parlano in qualche modo di ex ma nessuno mai l'aveva tematizzato insomma completamente c'è una questione anche di di aspettative e di costi sul sul film attualmente un certo tipo di di rientri poi il cinema è una magia quindi non c'è mai certezza però diciamo c'è una ragionevole probabilità te la danno alcuni tipi di attori oppure peschi il jolly io il jolly l'ho già pescato era notte prima degli esami quindi adesso sono nella condizione di non lo so se c'ho un altro jolly da pescare oppure se quello è già dato e adesso me lo devo sudare ogni volta il risultato e io stesso alla fine quando vedo il progetto compiuto e dico questo attore su questo film alla fine dico secondo me non ha la forza necessaria non è anche la storia non abbia una forza necessaria per arrivare a tutti ma è proprio l'impianto generale di comunicazione secondo me rischia di diventare un film per pochi e allora alla fine io non ci metto la forza propulsiva giusta il produttore già non ce la mette di suo magari e quindi il progetto rimane lì in attesa di di nome non è facile insomma costruire dei film perché poi comunque volenti o non volenti se ti dice tutto bene è un anno un anno e mezzo due anni della tua vita insomma quindi devi devi stare molto attento a quello che che combini perché non te li ridà indietro a nessuno i Grazie.